Siamo con Bruno Marzulli, vice allenatore e un po' l'uomo di riferimento di tutto il settore giovanile del Giurema Basket e Pidrechi, visto che ti occupi un po' di tutte le formazioni dall'Under 13 fino all'Under 20. Prego con te farei un discorso un po' in generale su tutto quello che è il settore giovanile. Io sono cinque mesi che sto qua e vedo che i ragazzi si impegnano su tutte le categorie e credo che lavorando bene può uscire qualcosa da questi ragazzi. Basta che seguano gli allenatori che secondo me sono in grado, anzi sono bravissimi ad allenare, allora basta che seguano questi istruttori e le cose andranno sempre in meglio. Secondo te, visto che hai uno sguardo un po' a 360 gradi, quali sono i punti di forza e i punti da migliorare di tutto il settore giovanile, quindi di tutto il comparto? I punti di forza di tutto il settore giovanile, secondo me, sono gli allenatori, la prima cosa, perché hanno dimostrato di sapere le cose e niente, basta seguire gli allenatori e i ragazzi faranno bene, secondo me. Per quanto invece parlo a te, in quale gruppo ti trovi meglio? Perché comunque tu segui un po' dall'Under 13 fino all'Under 20. No, 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 io vado d'accordo con tutti, con tutti gli allenatori, anche con i ragazzi, lavoro molto bene su tutti i gruppi, non c'è uno diverso dall'altro. Grazie. Grazie. Grazie.